ciao a tutti ragazzi eccoci qua in questa giornata nefasta per me almeno ho messo il gatto nero basta sono stanco sono una sfiga da un mese a sta parte che tanto basta e parlavamo prima dietro le quinte con Reco della sfortuna del Fanta e prof comincio da te come ti è andata sta giornata guarda stavo vedendo un po ci sono tanti risultati che vengono veramente decisi per per dei mezzi voti tra l'altro stavo guardato anche i voti delle varie redazioni perché poi in alcuni usiamo Italia quindi diciamo che a parte un paio di Fanta dove perdo per mezzo punto ne ho altri due o tre dove forse la spunto per mezzo punto come ad esempio nel nostro classic dove dovrei vincere contro Babbo lui dovrebbe fare 71 e mezzo ma anche Fede Viglino che era secondo dovrebbe vincere due a uno con Simone contro che gli fa 71 e mezzo con Pessina Rosso quindi diciamo che lì dovrebbe restare a più cinque in tv play se non ho fatto i conti male mi sa che pareggio contro contro le veline quindi facciamo due a due nel mantra nostro vinco due a uno in quello di Carmi pareggio due a due mi entra per era al posto di frattesi con l'assist quindi sì è due a due però quelli davanti vincono quindi vincono uno a zero mi sembra uno a zero l'altro pareggia quindi allungano e poi devo vedere un po' quelli con gli abbonati ma lì si decide sui mezzi punti quindi c'è una giornata sofferta fino all'ultimo e domani domani poi facciamo i conti però forse più bene che male diciamo ti reco va bene bene solo che in uno con gli abbonati ho perso in un Fanta in cui è una squadra illegale però a scontri forse vado vado sotto eh sì vado sotto perché giochiamo primo contro secondo e avendo 50 puntini in più solo un punto sotto a scontri e gli altri con gli abbonati vinco tutti gli altri tranne uno è il mantra pareggio al mantra nostro fatto pietà però pareggio zero a zero perché anche chiuso fa zero e vinco al classic una zero non male io niente io un mese e mezzo che mi sto buttando all'aria tutti i Fanta non vinco più Lautaro non segna più Zapata non segna più De Chetelare scomparso Giroud non segna più niente proprio niente diciamo tra settimana grandi attaccanti gli attaccanti non sono nessuno sì ma è un pezzetto che erano gli attaccanti anche l'Inter era delusi ma aspettavo almeno uno due gol in più Turam Lautaro sono un po' mancati sì ma è un periodo che i bomber non segnalo più Lukaku pure scomparso ha segnato qualcuno di quelli che poteva fare benissimo alla Leao alla scamacca che però esatto si sono tornati si sono tornati quei giocatori che hanno un po' deluso all'inizio e gli altri bomber completamente andati infatti trovo male male praticamente ovunque niente disastro proprio intanto leggiamo qualche commento a parte quelli che non si possono leggere qua c'è Giuseppe che esulta per il gol di Sanchez ragazzi una cosa importante la settimana anzi due settimane fa io dissi tra gli improbabili non so se vi ricordate Juan netto tre soldi non ha segnato ma a un certo punto già aveva sette nel live poi ha finito con sei e mezzo quando ho visto sette io ho fatto lo screen poi è passata sei e mezzo è comunque un voto storico però però Marco è primo aprile oggi quindi oggi è primo aprile quindi oggi non vale peccato peccato oggi non vale infatti Francesco fai gli auguri auguri a te auguri a tutti quanti Mohamed io con Scamacca Calafiore Dunfli Sperera Tovenne Orsolini mi avversario con Gudmus al commander di Marco di Bala non gioca a Jovic entra Kristo vizzi con il suo sette facciamo 83 e mezzo io 78 lui questa è sfiga perché tra l'altro questa giornata se fai tre gol secondo me devi vincere cioè se pareggi tre a tre in sta giornata è veramente sfiga già due a due per me ne ho fatti un paio è già sfiga perché non ci sono stati tanti bonus però tre a tre è veramente sfortuna già con 72 si dovrebbe vincere questa settimana sì infatti sì lele torna il fatto che si torna a vincere di Marco l'Optus leao e si vola l'Optus che non segnava da otto giornate e quindi sette mi sembra ho messo neopfulate sette partite in campionato senza buono quindi praticamente nelle leghe otto ha segnato nella scorsa nella scorsa giornata a meno che ad esempio faccio asimmetrico quindi non si baciano però invece perché quello tv play infatti ce l'avevo contro contro antonio aveva segnato questa ma risegnato contro che bello che bello buona pasquetta ecco pessino e l'ovric hanno deluso hanno diciamo non so benissimo l'ovric che ormai è diventato un po' tutta l'udinese perché anche samarzic oggi abbastanza inguardabile probabilmente lui dice perché ha avuto tre palle gol che poteva diciamo che almeno l'ovric ce l'ha ste palle gol dovrebbe anche farle però già il fatto che lei abbia samarzic oggi l'ho visto veramente fuori da fuori da tutto non mi è piaciuto uno come lui non lo so non so quanto ci sia di di tattico nel suo flop quanto di testa perché lo vedo veramente fuori dalla manovra sì fuori da qualsiasi logica secondo me ormai ormai da un'altra parte nettamente peccato perché si sta giocando la salvezza giuliano bene bene ma ci sono tanti nomi tra l'altro che l'in basso stanno deludendo stanno un po' mancando perché penso ad esempio sulle nel frosinone inizia a essere è vero che prende sei a differenza magari di altri che prendono brutti voti però inizia a essere un fattore in negativo anche sulle che che non segna la salernitana candreva ad esempio chi usa live oggi si è preso un bel 5 dove una buona notizia chi usa redazione italia domani vi troverete un 5 e mezzo vi vi anticipo già perché lo statistico ha dato 5 e mezzo e milano ha dato 6 quindi vi troverete un 5 e mezzo io ho notato che questa giornata ci sono stati tanti mezzi voti di differenza tra le varie tra le varie redazioni addirittura in un fanta contro il mio avversario solo di difesa prende due punti pieni in più tra tra le varie redazioni perché tipo meret anziché sei del largo prende 6 e mezzo buongiorno anziché 6 prende 6 e mezzo cambiasso anziché 5 e mezzo prende 6 poi ce n'era un altro che che è aumentato mentre invece a centrocampo un po' successo il contrario perché era bio ad esempio preso 5 e mezzo con italia lo stesso wea è stato è stato penalizzato preso mezzo voti in meno quindi anche lì a seconda di chi che redazione avete usato questa giornata molti risultati potrebbero essere diversi quindi occhio esultare se non avete visto ancora i voti domani ma lo dico perché poi a volte uno dice la vabbè dai e invece poi basta qui un punto in più in difesa ti scatta magari il mod più alto quindi fate bene i conti sì infatti intanto alessandro ti ringrazio per il consiglio su salemakers sì sì io in un classic anzi in due classic l'ho messo l'ho lasciato fuori in un mantra ma perché avevo orsolini quindi ci stava ho messo orsolini dentro salemakers a coprire sì è andata così ci sta e invece si è risvegliato finalmente scamacca commento su scamacca io scamacca era un argomento che volevo portare nonostante il commento d'andrea perché a me scamacca mi dà tanto l'idea d'essere è ritornato al gol finalmente ma mi dà tanto l'idea d'essere fuori dalla manovra dell'atalanta a me ha fatto un gol secondo me molto estemporaneo non non manovrato un tiro da fuori che per carità beh il gol ci sta i colpi ce li ha però ancora secondo me è un po fuori dal progetto atalanta se io posso dir la mia mi ricorda molto il modo di giocare di balotelli mi ricorda scamacca essere fuori dalla manovra e tirar fuori sti gol estemporanei tra i colpi ce li ha i colpi ma è uno di quelli che ha un fisico importante cioè alla fine lui se gli va bene parte di dolari gioca 60 minuti quando gli va male gioca 30 non è facile quello è il problema scamacca se lo metti in una squadra in cui magari fa sempre quei 90 minuti perché la punta centrale come era al sassuolo no magari qualche partita la sbaglia pure però quando inizia a ingranare magari ti fa come lo era duvan zapata no ti ricordi zapata zapata finché era la punta tolti gli infortuni lui faceva bene poi nel momento in cui anche lui è entrato in quel limbo di al toro gioca sì io ad esempio sono convinto che per dire per fare un paragone scamacca quest'anno al milan sua azione avrebbe segnato più di giro col tipo di gioco che al milan quindi con pulisi ciuquese leao che mette 3 4 assist a partita è ovvio che nel contesto atalanta come dici tu non è ancora inserito al cento per cento va però detto che al momento se non sbaglio quello di questa giornata è il settimo gol che fa e l'atalanta è una di quelle che è vero che ha le tre competizioni ma anche uno dei calendari migliori e quindi dovesse anche arrivare a 11 12 gol contando che ha giocato poco un mese è stato fermo potrebbe essere un fattore in questo finale di stagione cosa che invece non rischia di non essere reteghi perché ora bisognerà capire questo infortunio alla caviglia reteghi era uno di quei nomi che poteva anche lui con una salvezza tranquilla magari beneficiare di questo nuovo modulo a due punte e ma si sono rotti tutti lì davanti perché vabbè vitigni hanno convocato reteghi si è fatto male e cuban è infortunato c'è solo good moonson quindi reteghi il suo infortunio è un po da capire sarà una cosa anche solo di due tre partite potrebbe essere importante io penso che questa forse la stagione più strana di sempre cioè appena sembra di avere delle certezze di scompaiono c'è davanti veramente settimana assente nessuno anche lo stesso lautaro che era la certezza ora qualche gol in meno lo fa però tutti gli altri per esempio luca con appena uno segno prende sempre cinque infatti io sono convinto che a fine anno avremo più primi posti con copminers per dire che con lautaro io ho questa idea qui che alla fine soprattutto chi ha pagato il giusto lautaro sarà difficile cioè ne vedremo primi perché ovvio che se uno ha già fatto lautaro zirkezze zapata probabilmente però però secondo me sposterà meno di quelli di quello che la gente pensava magari due tre mesi fa io mi ricordo due tre mesi fa si diceva alcuni dicevano quest'anno basta che hai lautaro altri dieci vinci il fantacalcio per me no non era così due mesi fa e a maggior ragione non è così adesso e non sarà così alla fine quindi da un lato meglio perché va un po a sostenere quella tesi che non ci sono più i bomber da da 30 gol a stagione anche se 30 li può ancora fare però ecco dall'altro anche turam è un po fermato con quella di oggi sono sei mi sembra le giornate senza gol c'ha la noru se anche lui un po fermato diciamo che nell'inter di marco è quello che forse in questo momento anche soprattutto se ha il mod sta spostando di più eh anche anche bastoni perché bastoni guardavo ehm ce l'ho messo nella top 11 settimana eh un ragazzo mi ha detto eh ma hai messo troppa inter cavolo se non mettiamo l'inter forse è la squadra che ti dà quelle certezze e bastoni cioè guardavo le ultime pare dodici due sei tutti sei e mezzo e sette ho fatto un sacco di assist nelle ultime sono tre parti da fila no ma tra l'altro io nella top 11 certezze infatti non ti dico tutti ma la maggior parte erano del bologna erano dell'inter perché per me sulla carta erano le due partite scritte quella dell'inter mi aspettavo un po più agevole magari un 2 a 0 cioè un 3 a 0 magari anche invece alla fine sono arrivati due gol di cui uno sanchez che non so quanti hanno preso eh il bologna invece più o meno andata come come mi aspettavo io stasettimana sto rosicando perché eh ho controllato su fantalab mettiamo i risultati no e ne ho presi quattro su dieci risultati esatti se avessi se avessi puntato qualche euro avrei fatto bisogno no ma se punti gli euro poi non non si vince così ma poi non escono la legge scritta ero indeciso ero indeciso se puntare sull'inter perché avevo messo 2 a 0 e ne avevo presi in modo se già tre o quattro e quasi quasi cinque euro glieli butto poi ho sottornato tardissimo a casa quindi non ho fatto nulla e anche quello è tanta roba poi magari quando giochi non esce allora infatti ne escono mai assolutamente infatti vedi Carlo eppure no prof mio cognato ha Lautaro Zirzezzapata ed è secondo a 43 punti ma è il miglior punteggio mentre il primo a 46 punti ho già perso io l'ho agganciato a 43 punti perché solo una cosa che è più forte di Lautaro Zirzezzapata il calendario per non dire altro quindi lì può far poco io in quello di Carmi sono sono primo in battere il Royal primo per punti ma sono terzo dopo oggi ho 12 gol in più subiti ragazzi c'è poco da fare ma quello uno che deve dire sempre uno può fare i punti cioè poi a scontri io tv play ancora sono primo a punta per punti ma sono quarto calendario non si batte non si batte per battere il calendario devi veramente avere Gudmundsson, Copminers, Lautaro e forse può non battare esatto e non basta e non basta infatti Mau è primo con Leao e Vlaovic vedi e lì o ha un gran centrocampo e allora riusciamo a darci una spiegazione oppure è da capire come è possibile perché oggettivamente sì ha avuto dei momenti Vlaovic gennaio e febbraio però non basta ecco almeno sulla carta no assolutamente e comunque sia per questo finale di stagione ci sono ragazzi dei giocatori che finesso sono rimasti nascosti e che invece stanno ritornando in auge ma ce ne sono due che invece ancora ci stiamo sperando ma che non stanno tornando uno è Ciruzzo immobile e Carlo dice posso sperare in cinque gol nell'ultimo otto di campionato diciamo che il fatto che non sia partito titolare non è non promette proprio benissimo ma non può verlo escluso per una sorta di non so per farlo giocare in Coppa Italia oppure per nascondersi in vista del derby immobile nel derby fa sempre bene sì io più che altro al di là di quello mi soffermerei su come ha giocato la Lazio perché per me la Lazio ha fatto una gran partita contro la Juve però mi è sembrato però ovviamente una partita quindi non è che possiamo già dare un'analisi che a goderne di più di questo nuovo tipo di gioco di Tudor di questo nuovo modulo più che essere la prima punta fossero quelli un po' intorno cioè Felipe Anderson ha avuto le sue chance vabbè Luis Alberto è entrato dopo quindi non è valutabile eh Marusic cioè per dire eh abbiamo visto come gli esterni no ecco sì in questo momento non mi sembra che la prima punta di Tudor però ripeto è una partita quindi abbia cinque sei occasioni a partita magari è un caso c'era la Juve c'è Bremer contro quindi comunque è una partita che secondo me non fa troppo testo però sicuramente possiamo magari ipotizzare che la Lazio da qui alla fine finisca bene però forse dovessi dire adesso preferisci puntare sulla coppia immobile Castellanos o sui Zaccani, Luiz Alberto e quelli intorno forse mi avrebbe da dire più quelli intorno però magari ne capiremo di più nelle prossime giornate sì anche perché ha due belle sfide adesso che credo che questa fosse più una vetrina secondo me tanto la Lazio ormai ha il campionato ha poco da dire gli rimane il derby e poi la Coppa Italia dove secondo me è lì che è la prossima no il derby? sì la prossima è stato un Dicas qualificato giusto? sì oggi è stato punito e rendi fida sì Dicas qualificato e comunque Luis è entrato benissimo quindi per quello ha perso un paio di palloni ho visto bene il secondo tempo ho visto che fa cose buone e cose meno buone sì però ha fatto un paio recuperi fondamentali sì sì quindi quello preoccupa meno non dica la Lazio ha quattro gare interne non male perché alla fine ha Salernitana, Verona, Empoli e Sassuolo anche se Verona e Empoli non sono squadre che stanno concedendo tantissimo però Salernitana Sassuolo magari soprattutto Sassuolo all'ultima Salernitana dopo il derby può essere che è una punta centrale faccia i gol o lui o Castigliano sì infatti secondo me ancora sui mobili qualche speranza c'è e invece un altro è quello di cui parliamo ogni settimana che ancora c'è la speranza sai è frattese tutti diciamo vabbè adesso l'Inter questo è importantissimo quando vincerà lo scudetto forse lo vedremo titola forse ok sì devo dire che allora a me stasera mi è venuto anche bene nel senso che così mi entra Pereira che aveva fatto assist quindi bene così però come dire non l'ho capita tanto perché noi sapevamo che più o meno al 65, 70 entra Carlos Augusto entra magari no cambia gli esterni e frattesi era uno di quei cambi che solitamente faceva intorno a quella minutaggio lì e invece no non l'ha fatto è entrata l'ottantaquattresimo se non sbaglio quindi non lo so è difficile da da spiegare perché ok sei uno a zero magari non lo metti perché frattesi rispetto ad altri copre meno però voglio dire comunque non è che se togli mi chitarra e ne metti frattesi allora prendi tre contropiedi in cinque minuti quindi è un po' una gestione sì un po' particolare anche perché fisicamente comunque frattesi dovrebbe essere a posto non lo so sì infatti non si sa infatti non si sa assolutamente esordio di Abram in occasione del derby no perché deroseto ha ancora un paio di partite quindi questo non credo e invece un altro è Candreva che ormai secondo me dipende sempre dalle alternative però perché Candreva è uno di quei giocatori che però da un momento all'altro non so pensiamo a Pereira erano tante giornate che Pereira non faceva niente all'Udinese poi oggi assist e mezzo più uno sette e mezzo e Candreva l'occasione davanti al portiere l'ha anche avuta poi è stato fortunato Ravaglia però davanti al portiere Candreva c'è arrivato dipende è ovvio che se l'alternativa è un'alternativa in alcune partite come può essere magari un Vlasic un Gaetano del Cagliari che non ha giocato questa ci può anche stare non metterlo se l'alternativa è un Lobotka io vado comunque su Candreva rischi magari l'insufficienza però anche un angolo qualsiasi cosa può sempre può sempre farti un bonus sì però uno dei quei giocatori che una volta era certezza invece adesso ormai ormai come certezza è un po' il contesto che è ecco è interessante il caso Suslov invece che doveva rientrare è un mistero io ho detto quando l'ho visto in panchino ho pensato magari l'hanno portato per fare morale per fare spogliatoio qui è entrato all'Abram sì ma è stato fuori 15 giorni neanche 10 giorni neanche neanche perché si aveva fatto male in nazionale una settimana fa sì 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 neanche è stato fermo 7 giorni sì ma è quello che nella live scorsa lui aveva detto che avevano avuto entrambi i problemi sicuramente lui non verrà a convocare 25-30 giorni ne passano 6 e in campo sì ma nella live scorsa mi ricordo uno mi aveva chiesto ma scambio Suslov io ho detto ma Suslov tanto se sta fuori tre giornate ne mancano otto perdi la metà delle giornate forse sì magari è da scambiare ce l'ho visto in campo oggi ma no che consiglio dato ma cioè era era improponibile come cosa cioè sì infatti segnava addirittura era proprio la fine era era una best clamorosa sì un pesce d'aprile anticipato giustamente giustamente assolutamente e vabbè e invece visto che abbiamo parlato fino adesso del di tutto quanto concerne le squadre che stanno lottando per la retrocessione ragazzi sta lotta per la retrocessione diventa veramente una è bella sì molto bella e secondo me diventa anche un fattore al Fanta perché noi diciamo partite semplici la Lazio l'ultima col Sassuolo ma in realtà magari ci troviamo l'ultimo col Sassuolo che si deve giocare la Serie A con la Lazio che invece magari non si deve giocare più niente quindi magari potrebbe avere l'effetto contrario come la pensate dopo questa giornata dei scontri diretti dove che poi hanno detto poco niente intanto possiamo dire che abbiamo capito che quando giocano tra di loro di solito portieri sono abbastanza schierabili perché partite spettacolari da over non ce ne sono state perché Cagliari-Verona poteva essere sulla carta quella che doveva avere più bonus 1-1 Sassuolo-Dinese 1-1 il Lecce addirittura è riuscito a fare il clean sheet contro la Roma diciamo che in questo momento stanno più come dicevo prima tradendo quelli che giocano davanti che quelli che giocano dietro addirittura se pensiamo l'Empoli stasera ok prende due gol ma per dire uno come Luperto ne esce comunque indenne da una gara comunque difficile è arrivato addirittura al primo 6 e mezzo credo a memoria da un po' di tempo di Baschirotto o forse la scorsa non ricordo però Baschirotto quest'anno si è in mezzo ne ha presi ben poco però anche lì si vede la mano dell'allenatore quindi non so in questo momento mi viene da dire beate le difese di queste squadre più che gli attacchi sì infatti stanno un po' rivoluzionando anche il fantasy i vari allenatori arrivati molto difensivisti che sono andati a sostituire come dicevamo l'olta scorsa i vari Dionisi i vari Daverse insomma allenatori molto più giochisti e al momento effettivamente le punte ormai non ci si può fare più affidamento da Christovic a Pinamonti mi sembra che ormai proprio completamente scomparsi relegate al ruolo di comprimare insomma almeno fantacalcisticamente parlando mentre le difese al momento sì stanno se hai già qualche difensore del Sassuolo dell'Empoli piuttosto che del Cagliari è un Di Marco e lì è il modificatore continuo praticamente io non ho fatto il confronto ma credo rispetto all'anno scorso i gol sono diminuiti tanto cioè gli ultimi anni quest'anno veramente non si riesce a trovare se vogliamo ancora in doppia cifra quanti attaccanti abbiamo Lukaku Sulequara Zapata Zirze Turam a dieci undici Osimen che poi Osimen undici per chi diciamo ha aspettato giustamente il recupero e poi Giroud dodici insieme a Dybala Vlaovic quindici e Martinez ventidre cioè solo due sono Vlaovic quindici Dybala poi dodici aggiungo anche che sul discorso attaccanti non vedo in chat molti che dicono Lukaku bidone Lukaku flop eccetera eccetera secondo me il punto debole di Lukaku non sono tanto i gol perché io stavo guardando ora Lukaku comunque dieci li ha fatti poi che magari non abbia la distribuzione perfetta però dieci li ha fatti e dieci li ha fatti per dire Zapata dieci li ha fatti Zirkze ok dieci li ha fatti Turam il problema sono i voti perché mentre Turam ad esempio ha una media voto del 6,55 Zirkze 6,5 Zapata 6,3 Lukaku ora sarà ancora più bassa ma prima di questa giornata era 6,06 adesso ha preso 5 quindi ora non so però andrà sul 6 o forse ecco il problema di Lukaku è che se non fa bonus spesso arriva arriva al brutto voto e in un fantacalcio dove si segna così poco avere anche lo Zirkze che non segna ma ti prende 6,5 è alla lunga o il Turam che comunque stasera non segna ma ti prende 6 alla lunga secondo me ti può fare la differenza cioè se Lukaku oggi avesse preso 6,5 magari la gente si lamentava comunque ma non saremo qui a dire mi bastava un 6 di Lukaku per il problema è quello io ho visto Lukaku oggi nel secondo tempo ho avuto quell'occasione di testa eh quello infatti Lukaku mi aveva una palla vero ma sono un paio di partite che gli aveva una palla di testa facile e la butta fuori esatto e poi c'è stato quel tiro di Dybala che gli è stato sfortunato perché poi è stato rimpallato e è andato più verso Falcone e lui sì arriva tardi io qualche alibi glielo do anche il problema secondo me è che è un tipo di giocatore che quando non fa bonus si vede troppo poco per prendersi un bel voto e quindi quello è un po' il punto debole al fantacalcio sì perché è pelato e niente attrito no dai perché devi giocare col cappello cioè giusto prof ma 5 oggi gli è arrivata una palla sono troppo critici contro lui si qualche occasione ce l'ha avuta un po' di movimento l'ha fatta non era 6 ragazzi ha un tipo di gioco che possiamo può essere giusto sbagliato ma è bello da vedere è bravo esatto è bello ha fatto due stop di tacco che gli dai bravo bravo tecnicamente è superiore secondo me di dire che se gli dai 6 non è uno scandalo però è bello è bello sì sì tecnicamente è superiore non c'è niente da fare tecnicamente poi magari sì se Lukaku giocherò in una squadra che gli da 20 palle o il Zirze giocasse in una squadra che fa 20 palle segnerebbe più Lukaku secondo me però come senso del gol magari ancora è superiore però a Zirze sì tecnicamente è superiore anche anche uno stop ovviamente fatto come li fa lui fa aumentare il voto quello è ovvio a Roma non c'è se non ci va ci vuol divarlo è farla girare non so ma non è che Lukaku può segnare solo se c'è Di Vala perché se no è impossibile hai il titolo sbagliato Lorenzo 26 è una giornata ce l'han scritto in chat ma no sì è stata una giornata importante allora siamo tornati a parlare esatto siamo tornati dai ragazzi è la trentesima su mi sono sbagliato dopo la cambio eh ragazzi io lo so è tutto fatto al volo è pasquetta cioè ci sta Zirzi ha un hype diverso rispetto a Lukaku nel voto ma secondo voi no perché poi tanta gente ce lo chiede voi stando con pantacalcio eh ma noi noi sinceramente ragazzi dei voti non ci mettiamo bocca non sappiamo niente quindi possiamo soltanto anche noi parlare magari di ipotesi e di 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 nostri pensieri per voi ci sono giocatori che hanno veramente un hype rispetto ad altri ma più che hype anche pure tante volte dipende dalla dalla partita cioè se tu la vinci se tu la pareggi se tu la perdi eh spesso non solo pantacalcio sono condizionati anzi forse qualche altro giornale è peggio ancora cioè non guarda cioè non non si non si basa tanto su quello che hanno visto in campo ma hai perso 3 a 0 contro Atalanta e ti massacra quindi facciamo l'esempio di Magnan secondo me è l'esempio perfetto allora per me Magnan era giusto che prendesse 7 ok però per come di solito funziona live Magnan avrebbe dovuto prendere 7 e mezzo perché Magnan la bella parata quella non quella sul pallonetto di Mandragora chi è che l'ha fatto quello prima fa la bella parata e lì resta 6 e mezzo poi viene alzato solamente dopo a 7 quando fa la parata sul pallonetto ora a me sta anche bene che 7 sia il voto complessivo però solitamente per come funzionano i voti e lì era più mezzo più mezzo Magnan era da 7 e mezzo cioè di Gregorio quest'anno ha preso dei 7 e mezzo o comunque dei 7 dati dalla doppio intervento a distanza di 10 minuti più mezzo più mezzo ecco quello che io vorrei è coerenza cioè se live me lo fai funzionare sugli episodi mi sta bene però allora Magnan gli dai 7 e mezzo se invece lo fai funzionare sulla valutazione complessiva della partita allora mi sta bene il 7 però se me lo fai funzionare sulla valutazione complessiva della partita ci sono dei voti che a volte non capisco tipo giocatore che esce mezzo voto in meno giocatore ammonito mezzo voto in meno c'è già il giallo perché devi aggiungerci il carico da mezzo ecco secondo me è un po' questo il problema la stessa cosa carne secchi secondo me carne secchi fa quella parata quella strepitosa secondo me su quel parola che stava andando piano piano in porta lui riesce a toglierlo con la punta delle dita 6 e mezzo è rimasto 6 e mezzo ha dovuto fare un altro bell'intervento dopo per arrivare a 7 per me quella carne secchi non è una partita da 7 il clean sheet a Napoli fa dei due interventi mostruosi tra cui quello lì sulla riga che è veramente strepitoso 7 sì 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 io se dovessi dare un consiglio a Fantacalcio la cosa che noto diversa rispetto a tutti gli altri giornali è che se tu non fai bonus è difficile che tu prenda 7 cioè tu puoi fare anche una gran bella partita ma se non c'hai quel più uno quel più tre il 7 è difficile mentre magari altri giornali ti premiano anche se non vinci però se fai una una bella prestazione che tu alla fine è quello che devi 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 valutare cioè hai giocato bene ti do un buon voto ecco quello secondo me è da migliorare cioè sarebbe migliorabile cioè vedo giochi bene allora per prendere 7 devi fare proprio un qualcosa di quasi trascendentale poi magari segno rigore e prendi 7 più 3 10 allora lì dici perché sì e secondo me soprattutto che sono poi quelli che paradossalmente spostano di più i difensori perché ad esempio c'è stato il periodo mi ricordo dove secondo me ingiustamente alcuni criticavano fantacalcio dicendo che buongiorno prendeva voti troppo alti quando buongiorno statistiche alla mano anche secondo altre fonti anche secondo altri voti algoritmici è uno dei difensori migliori non solo in Italia ma a livello europeo come interventi come anticipi adesso è un periodo che secondo me nel live viene penalizzato buongiorno infatti anche questa giornata buongiorno prende 6 nel live quando invece per tutte le altre redazioni prende 6 e mezzo per cui anche lo statistico ha dimostrazione che buongiorno ha fatto la sua partita senza anzi non ha sbagliato quasi nulla lì secondo me cioè a volte poi si ha l'effetto contrario per me buongiorno quest'anno sta facendo una stagione top come ad esempio al contrario Pavard che stasera prende 6 e mezzo ci sono state tante partite dove Pavard avrebbe meritato di più ma magari proprio per l'hype che aveva all'inizio per le aspettative che c'erano su questo giocatore spesso più del 6 magari non non gli è stato dato quindi io credo che a volte non è tanto un discorso di criticare il pagelista di quella partita perché poi come sappiamo ci mettiamo qui a dare noi tre i voti insomma non saranno mai tutti uguali secondo me quello che è importante ripeto sarebbe la coerenza nel metro di giudizio cioè quel giocatore lì come dice Recco non ha fatto bonus ma comunque è stato fondamentale in alcune cose che ha fatto dagli il mezzo voto in più allo stesso tempo anche la cosa che il giocatore che fa assist in automatico prenda il mezzo voto in più secondo me anche lì va contestualizzato perché ci sono assist che nel fantacalcio mi utopistico non sono assist sono assist col metro che c'è ora dove il 95% dei passaggi diventa assist però allo stesso tempo allora non mi puoi dare il più uno e anche il mezzo voto altrimenti perché se non è uno e mezzo perché un discorso è l'assist che mi mette davanti alla porta e lì mi puoi anche addirittura alzare di un voto mi puoi anche dare da sei farlo diventare sette più uno ma se uno ha fatto una partita indegna non è che mi basta un lancio lungo a caso che diventa assist e deve prendere anche il mezzo voto in più ecco a me fanno arrabbiare un po' più queste cose che il singolo episodio che ovviamente poi può essere soggettivo ma anche tante volte quando variano cinque e passano a sei e mezzo e poi diventa addirittura sette per un rigore segnato per carità alla fine il rigore ti dà già il più tre gli vuoi dare l'altro mezzo voto lo dai ma se era cinque non può diventare sette perché sennò vale cinque cinque punti un rigore come anche queste cose vanno valutate esatto scamacca sette e mezzo vero è terminato il primo gol e poi segna però secondo me tra scamacca e carne secchi forse più carne secchi è stato determinante in quella partita rispetto a scamacca o almeno alla pari vedi secondo me lì c'è una lettura che mi può anche star bene del tipo l'Atalanta va a vincere a Napoli 3 a 0 cioè fosse stato Salernità l'Atalanta 0 a 3 avremmo avuto in generale voti molto più bassi con le stesse identiche prestazioni e secondo me questo cioè si può essere d'accordo o meno ma secondo me ci sta allo stesso tempo però allora io voglio voti più bassi del Napoli cioè se mi dai sette e mezzo scamacca sette mi sta bene però allora voglio che i giocatori del Napoli che perdono 3 a 0 in casa contro una in una partita che doveva essere l'ultima spiaggia per Calzona secondo me sono voti troppo alti cioè se io non vedo se io non so quanto è finita e vedo i ribotti del Napoli dico ok hanno perso 1 a 0 non hanno perso 3 a 0 con l'Atalanta ecco anche qui mi sta bene che dai sette e mezzo a scamacca dai cinque a Osimane allora faccio un esempio di Osimane ma Juan Jesus 4 e mezzo dagli 4 cioè se secondo te veramente l'Atalanta ha dominato cioè più capito il range più range di voti quello secondo me ci vorrei sì anche perché scamacca sette e mezzo più il range sette e mezzo sembra veramente guardando l'Atalanta che l'hanno devastati se l'hanno devastati esatto cioè se l'hanno devastati alzi di qua e abbassi di là se non l'hanno devastati scamacca che ne stiega abbassi un po' sette esatto sì infatti ci sta però vedi questo è il pensiero generale ma voi youtuber non avete il potere di proporre idee al signore che gestisce il fantacalcio che si pensa di questo gran manovratore che è il signor fantacalcio e noi youtubers possiamo parlarci no ragazzi non funziona così su un discorso voti per stessa ammissione comunque è un sta sta ai pagellisti quindi non noi contiamo zero non contiamo niente sui voti quindi anche sotto i nostri post su instagram in collaborazione è inutile che scrivete alza abbassa anche se fosse così io avrei già vinto tutti i fantacalcio sì esatto con tutto di peso al signor fantacalcio infatti ciao sirio cioè noi non ti scrivete sotto i nostri post perché noi non possiamo niente tra l'altro ci invitiamo anche insulti per voti che io sono d'accordo con voi ciao anch'io giocatori come messaggio in dm esatto ma come mai hai dato io non ho dato niente non capisci un c perché no poi c'era aspetta un paio di volte è capitato però sempre molto educatamente io gli ho risposto no noi non diamo l'assist a Pasalic dell'ultima io mi sono trovato quando non davano l'assist a Pasalic sotto il posto tipo 50 non capisci niente dall'alse che ne so io cioè è stato bellissimo sì anche il fantacalcio fa parte dei poteri forti sì esatto Luca non contiamo niente esatto possiamo dire magari su altre cose possiamo quest'anno abbiamo fatto delle proposte che magari poi verranno prese in considerazione sì ma sui voti no non abbiamo non abbiamo voce ed è meglio così secondo me sì sì no no ma attenzione ad esempio a me piacerebbe avere ad esempio voce in capitolo sul discorso assist perché al di là dei voti secondo me uno dei grandi problemi di questo fantacalcio di questi anni è la mancanza di uniformità sugli assist io mi ricordo che 4-5 anni fa le polemiche sugli assist erano una volta ogni 10 partite ok perché magari c'era l'assist leggermente deviato adesso ogni giornata c'è almeno un assist o non assist dato che fa discutere perché perché magari quello di Pasalic a me sta anche bene che non sia assist però magari tre giornate fa un episodio simile è stato dato come assist stesso discorso magari il lancio lungo che non è che hanno qui è andato assist mi sta bene che gli dai assist però magari cinque giornate fa ecco per me il discorso assist deve avere delle regole cioè quello è sempre assist quello non è mai assist a prescindere dalla partita dal momento e così via poi ripeto sui voti per me ci sta a parlarne così ma qualsiasi cosa si può proporre che siano gli 0,25 gli 0,5 non ne usciamo ragazzi perché tanto anche con lo 0,25 comunque ci sarebbero polemiche uguali anzi per me è semplicemente un come dire rendere più difficile qualcosa che dovrebbe rimanere il più semplice possibile gli assist invece devo dire penso a questo arrivi a 71,75 ti manca una notte già con 71,5 non dormi con 71,75 o ti metti in macchina e vai a fare i spenti in autostrada non li vieni fuori 72 a 71,75 cioè quanto è fatto adesso 72,71 non c'erano uno che 0,25 potevano dargli in più ma nulla di serio comunque sarebbe tremendo sarebbe tremendo comunque prima di passare agli improbabili che stasera ragazzi chiudiamo un orario decente perché oggi abbiamo tutti quanti Pasqua e Pasquetta abbastanza pesante sulle spalle e come vedete infatti Carmi già stasera ha subito comunque Carmi è tornato in Italia tranquillizziamo i amici i parenti perché vedevo in chat dov'è oggi alle Hawaii Carmi è tornato stasera non poteva però è tornato dal Giappone sano e salvo esatto però i due argomenti che tanto ogni settimana andiamo a sviluppare uno le tre squadre dopo dopo questa giornata di sconti diretti che secondo voi retrocederanno due perché la salenda in Italia ormai mi sembra andata e i tre attaccanti che da qua alla fine segneranno di più perché ogni settimana ci sono queste domande e bisogna che le andiamo a risolvere perché sono curiosi sono curiosi allora da cosa partiamo dalle retrocesse o dagli attaccanti dalle retrocesse vai rispetto alla scorsa settimana è cambiato qualcosa? allora io resto convinto che l'Empoli anche se in questo momento è tra le tre che scendono o forse ci sarebbe lo spareggio in Polifrosinone come funziona? perché le classifiche che trovo in internet mi danno l'Empoli diciottesimo e il Frosinone diciottesimo ma in caso di parità c'è lo spareggio? non so come si è la regola eh anch'io stavo guardando quella non so se c'è lo spareggio non mi ricordo vabbè comunque secondo me l'Empoli ha ancora delle possibilità per salvarsi io sul Frosinone resto un po' scettico perché secondo me è quella di sì dice Stefano in chat spareggio spareggio sì quest'anno il rischio spareggio è alto perché ci sono tante squadre tutte lì mentre invece in caso di tre squadre ci sarà la classifica avulsa credo penso niente comunque per me l'Empoli ce la fa il Sassuolo io ora nonostante Ballardini la metto questa qua per me era una gara che doveva vincere il Sassuolo quindi metto il Sassuolo la Salernitana a me il Lecce secondo me col cambio di allenatore ce la fa l'Udiliense ce la fa dai Frosinone Sassuolo Salernitana io stavo guardando il calendario ha scritto Lorenzo il calendario di esposizione è buono però il Bologna poi il Napoli poi il Torino Salernitana Empoli Inter Monzo Dinese diciamo che calendario proprio ottimo non ce l'ha se l'Udinese salva forse le ultime due col Monza e l'Udinese le ultime due anche se va detto che negli ultimi anni squadre che si sono spostate a memoria ne ricordo poche anche squadre che comunque si giocavano ormai cioè che non si giocavano nulla secondo me difficilmente si scansano proprio poi ovvio magari le motivazioni fanno la differenza però non è detto che la squadra salva già ti va a regalare i tre punti come io ricordo che anni fa succedeva abbastanza spesso ricordo anche una regina che vinse con un Milan non so se voi la ricordate regina Milan regina Juve ecco ecco esatto esatto io sto controllando ma pure vedo un po' di calendari tutti squadre che ce l'hanno facili no ma io direi Frosinone sicuro perché non lo so dietro dietro concedono lo stesso Empoli oggi ha perso però secondo me non ha affatto male il problema dell'Empoli è l'attacco se l'Empoli riesce a fare qualche gol alla fine si può salvare forse anche io metto Sassuolo e Frosinone anche il Sassuolo però lo do nonostante abbia qualche punto in meno degli altri può avere qualche chance soprattutto perché dietro forse non è neanche un caso che un giocatore come Ruan alla fine stasettimana non abbia fatto male cioè con Ballardini ora questo sarà un caso eccezionale però dietro magari la situazione la può sistemare la squadra che vedo salva è il Verona ora come ora stanno giocando stanno giocando bene dall'Udinese Lecce dovrebbero fare veramente un Arachiri importante nonostante non siano tantissimi punti ma c'è troppe squadre dietro comunque Lecce ha già giocato bene ha fatto la squadra Sì infatti Lecce lo tiro fuori è un Lecce completamente diverso da quello di D'Aversa come atteggiamento come voglia sarebbe bello capire anche quanto potrebbe essere diciamo la soglia per rimanere in Serie A perché mancano 8 per 3 24 punti per me con 35 ti salvi quello stavo pensando il 35 cioè il Genoa paradossalmente le perdesse tutte per me si salva lo stesso perché ci sono troppe squadre cioè sono tutti se dovessi fare degli incastri 35 esagerando 36 secondo me sei salvo sotto i 34 per me rischia ancora qualcosa sì un 40 ecco che di solito anni fa si diceva quota salvezza 40 punti per me quest'anno 4-5 punti più bassa dei 40 comunque credo che alla fine le due usciranno tra Frosinone Empoli e Sassuolo perché pure il Cagliari oggi se l'è giocata la poteva vincere L'Umbola ha fatto un paratone Montipò lo stesso Verona alla fine anche quando perde alla fine se la gioca e lui dice se il Lecce le vedo ormai salvi cioè devono fare veramente qualcosa di clamoroso per scendere sono troppe squadre sotto Matteo ha detto addirittura che provando a simulare il calendario secondo lui con 31 addirittura ti salvi 31 cioè vuol dire che l'Empoli o il Frosinone non fanno neanche 6 punti no cioè che in queste fanno 6 punti si salvano mi sembra un po' ad esempio un Frosinone c'ha la Salernitana lì Frosinone Salernitana i 3 punti li può prendere c'ha l'Empoli quindi una delle 2 punti li prende magari poi ti salvi con 33 poi c'è un buon soldinetto alla fine però 31 mi sembra veramente poco 31 pochi la prossima c'è Salernitana Sassuolo c'è la prossima è l'unico scontro salvezza la Salernitana rischia di alzare la quota perché se le perde tutte a molte molte faranno 3 punti sicuri poi non è detto che le perderà tutte però Sassuolo va a 27 quell'altra va a 27 insomma Sì infatti infatti è tosta io non so io secondo me il Verona può avere un contraccolpo psicologico da oggi la stava vincendo ma però gioca eh gioca gioca assolutamente se Poloruscio invece di calciare lì la chiude è facile è per quello è che il Cagliari non muore mai il Cagliari Coranieri non muore mai ragazzi cioè il Cagliari è ma il Verona non so se te l'accordo la cosa che mi stupisce del Verona è che se tu guardi dietro consiglieresti mai un giocatore al fantacalcio del Verona però alla fine la fase difensiva la fanno infatti volevo chiedervi secondo voi al di là di come andrà in questo momento al di là della Salernitana doveste dire le due più scarse a livello di Rosa al di là del calendario di come andrà cioè le due che secondo voi sono più scarse senza tener conto degli allenatori eh senza tener conto degli allenatori chi sono secondo voi le due più scarse contando difesa c'è il campo attacco facciamo finire sulla panchina in tutte ci sia lo stesso allenatore quindi per me ad esempio il Cagliari sarebbe una che senza Ranieri sarebbe già spacciata cioè secondo me il peso di Ranieri nel Cagliari è un peso specifico clamoroso però per me a livello di Rosa è una delle meno forti soprattutto davanti in questo momento al di là di qualche lampo di Luvumbo fa tanto fatica e per me l'altra è l'Empoli eh ragazzi perché se non ci fosse Nicola io all'Empoli la darei già spacciata perché davanti i ragazzi si deve inventare dietro ha trasformato dei difensori che fino a due mesi fa lasciavano veramente desiderare in giocatori perlomeno schierabili l'unico reparto forse dove l'Empoli è un po' meglio di altri potrebbe forse essere il centrocampo dove ha qualche giocatorino come Marin Zurkowski esatto l'Empoli davanti e dietro sì per me forse tra quelle eh il Sassuolo è quella che ha una squadra superiore che però è là sì cioè tolta la i difensori però con Berardi eh io dico ad oggi fotografia attuale eh cioè secondo te il Sassuolo senza Berardi è comunque più scarso delle altre per me no cioè comunque o Pinamonti no 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 se sull'Oriente giocasse sarebbe eh che non gioca c'è Tors che gioca Tors Svez cioè ce n'ha assolutamente come giocatore ce n'ha sì sì infatti non so a me anche il Verona non è entusiasma come Rosa sinceramente ma il Verona è il Verona su Slonfolo Ruscio per me a quei livelli lì ti fanno la differenza eh e sto ma è stato una bella una bella scoperta in chat cosa dicono chi sono le più scarse calendario Udinese dicono Salernitana Cagliari e Empoli Empoli e Cagliari Cagliari Empoli Empoli e Cagliari nel Sassuolo conta Berardi comunque c'è un plebiscito nei confronti di Empoli e Cagliari qualcuno dice Sassuolo Sassuolo però l'Udinese si salva cioè c'è alcuni punti in più rispetto alle altre Verona e Empoli nelle prossime cinque c'è Inter Roma Verona Bologna e Napoli chi è? in L'Udinese c'è l'Inter la Roma poi c'è il Verona Bologna e Napoli c'è cinque partite e poi c'è tre scontri salvezza lei c'è Empoli e Frosinone c'è un calendario orribile secondo me l'Udinese tra quelle è quella che ha la rosa più forte sì Rossicamo è avvantaggiata anche perché ha quei tre punti per dirti anche se l'Udinese avesse due punti in meno tre punti in meno al di là di quello per me come rosa ha quattro o cinque giocatori che le altre non hanno perché ok Samarzic sta facendo male però Lucca a quei livelli comunque qualcosina ti sposta Pereira è un giocatore importante Toven è un giocatore importante Camara per me sta facendo un finale di stagione ottimo e anche lui è un altro che ti può fare la differenza Bicioli in difesa pochi ce l'hanno bravo esatto come classe sì 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 Perez doveva andare al Napoli per 16 milioni quindi è un giocatore scarso e dopo con tutto il corollario secondo me Lecce c'ha il grosso vantaggio che forse in questo momento tra tutte quelle lì è quella che ha il portiere migliore e a quei livelli lì il portiere ti sposta perché Falcone per me quest'anno conta almeno 4-5 punti nel Lecce pure Montipò quest'anno ha sposto almeno un paio di punti non ha fatto male ultimamente sì sì però Falcone è clamoroso effettivamente ma lo stesso Caprile comunque ma diciamo che a livello di portieri non sono messe male nessuna di cioè Lorenzo non so secondo te in una di queste Rui Patricio sarebbe titolare no infatti lo dicevo assolutamente forse la Salernitana forse infatti quando dicevo che la Roma la rosa non ha opposto contandola tutta quanta effettivamente dicevo anche Turati la scorsa giornata ha fatto un miracolo no no ma infatti non sarebbe titolare in nessuna di queste forse Sassuolo forse è al posto di consigli ma non so alla Salernitana in questo momento sarebbe titolare anche oggi di svilare qualche bella parata l'ha tirata fuori porca miseria poi esce esce non sta piantato sulla linea di porta esce costantemente però ragazzi dice oggi è stato un palcone ragazzi che è sembrato forse anche semplice quello che ha fatto ma palcone ragazzi oggi non c'è stato un calcio d'angolo sono stati anche battuti bene nel quale non ha preso la palla lui era nel punto dove cadeva la palla ma caccia un paio di partite forse tre quattro partite Falcone del Lecce che è quasi sempre il migliore sì clamoroso ripeto annulla qualsiasi calcio d'angolo dell'avversario è clamoroso secondo me effettivamente è tanta roba e invece parlavamo dei tre attaccanti che segneranno di più da qui alla fine anche questo è difficile effettivamente pensandoci che non è semplice perché forse anche Lautaro al momento avrei problemi a dire è tra i tre che segnerà di più da qui alla fine sì non è facile non è una certezza se me l'avessero chiesto in un mese facile avrei avuto i nomi Lautaro Simen e Blauic avrei detto adesso no forse nessuno dei tre forse diciamo che con l'amoria che abbiamo di attaccanti lo dici Lautaro però quest'anno sembrava che non avesse quel periodo che ha sempre avuto di mesi in cui non segnava ora pure oggi quanti quanti palloni ha calciato verso la porta Lautaro ricordate i tiri di Lautaro uno uno me lo ricordo che l'ha messa in angolo Caprile che quando ha saltato quei due tre uomini intorno al settantesimo anche lo stesso Duram oggi ha calciato importa Duram una mi sembra una calciata sì però ha calciato più centrocampisti cioè hanno avuto più occasioni Mkhitaryan Barella ne ha avute un paio Bastoni quando si è inserito Bastoni Pavard due se non sbaglio due occasioni una murata da Beresinski e un'altra poi il fantacalcio secondo me cioè assurdo secondo me il prossimo anno un Pavard rischia di farti quattro gol quest'anno non riesce a segnare da un lato spero che non faccia nulla dall'altro sì perché ce l'ho però per me Pavard è un gran bel giocatore eh sì sì ma dico ogni giornata potrebbe fare un gol però non riesce a poi magari il prossimo anno era il pochino era il pochino era il pochino era quello che stanno così sì sì intanto la chat sta rispondendo Scamacca Zapata Zirkze Castellanos Sanabria Scamacca Leao Scamacca Castellanos Leao Simen Che dire addirittura Zapata ha visto il calendario del toro Scamacca per l'europeo ora sono curioso sono curioso di vedere con con l'Europa Milan contro Roma sì chi gioca in campionato e quant'altro sì infatti io per questo motivo un Kvara perché Kvara al di là dell'ultima che ha saltato ultimamente stava andando molto bene e il Napoli non ha non ha più nulla cioè nel senso non ha obiettivi o comunque difficilmente raggiungerà qualcosa di importante Kvara ha solo il campionato e in questo momento lo vedo un po' più centrato rispetto a O.C. Man potrebbe essere quel nome che magari non ti aspetti e ti fa altri perché ora parliamoci chiaro mancano otto partite quindi anche se uno fa tre gol rischia di essere uno di quelli che ne fa di più cioè a meno che uno ne faccia sei o sette ma poi c'è Vlaovic che era un altro che ora vabbè l'ultima ha saltato per squalifica però secondo me Vlaovic è fondamentale in questa Juve e la Juve adesso se le deve giocare alla morte perché non ha cioè non può stare lì a fare calcoli quell'altro che dice bastano nove punti cioè nove punti che cosa se il Bologna ha dietro così gli è andata bene che la Roma oggi ha pareggiato perché se la Roma oggi vince nove punti per me non bastano mai per la Champions per me Vlaovic potrebbe essere uno dei tre che segnano di più e io uno dell'Inter ce lo metto comunque o secondo me Lautaro comunque Lautaro li farà dai Lautaro Vlaovic e nome a sorpresa non ti dico uno del Milan o della Roma per il discorso che avete fatto voi delle coppe perché secondo me qualche turnover ci sarà tra Leao Giroud potrebbe essere il nome Kvara il nome che non ti aspetti oltre a Lautaro e a Vlaovic comunque la chat mi sembra abbastanza concorda dire Scamacca Leao e Castellanos Scamacca se io avessi la certezza che le gioca tutte ti direi anch'io Scamacca perché ha un calendario molto molto positivo il problema è che poi magari mi fa 15 minuti quindi andarti a dire che sarà uno dei tre attaccanti che fa meglio cioè ti dico meglio Scamacca di Lukman secondo me in questo finale però dirti che sarà uno dei tre lo spero però anche per l'Italia ecco però sì vabbè ragazzi 23-54 Oreco dicevi scusa? no no a me devo dire nonostante la partita difficile non è sembrato sotto tono nel senso che il problema è che è stato marcato bene qualche qualche azione sporadica del Napoli l'ha fatta lui cioè secondo me il problema del Napoli senza Covara cioè non hanno non hanno un'idea di gioco cioè l'anno scorso giocavano a memoria cioè arrivavano davanti in maniera incredibile il problema è che se non gli dai una palla giocabile anche Osimène per questo quando dicevano eh Blaovic non segna però eh che gioco eh eh Davide voglioso ma nulla più ma il discorso è che non è un quel giocatore che magari eh soprattutto con le difese come quella dell'Atalanta che era una volta che erano sul 2-0 si coprivano non è un giocatore che ti prende e ti salta tecnicamente l'avversario è uno che ha bisogno che vai sul fondo gli fa il cross ma gli testa segna eh è un giocatore che va servito eh non è un magari leao che salta l'uomo e fa quei gol là quindi questo è un anno per il Napoli che transito finisce meglio e poi il prossimo potrebbe essere diverso sì sì va beh ragazzi facciamo gli improbabili e ci siamo e poi chiudiamo allora iniziamo con Salernitana Sassuolo l'unica sfida salvezza del weekend allora aspetta che mi metto le le formazioni ora probabilmente gli squalificati non li so eh dove li hai presi Lore? chi? ah le no dindica lo sapevo perché era diffidato preso il gianno dica sì 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 dica lo so perché era scontato ti dico Doig dai provo Doig io riprovo un paio di giornate fa l'avevo detto la Oriente che comunque ha preso un altro 6 e mezzo qualcosa sta facendo però Salernitana hanno sbloccato i tanti da centrarsi oggi tre soldi dicono soldi farà il gol salvezza ragazzi esatto Candreva Candreva schierabili sta giornata Candreva non è che rende fida mi sta venendo il dubbio Candreva no di squalifico aspetta perché ha preso un sacco di gianni Candreva no nessuno diffidato è andato in diffido adesso adesso non si diffida io però dico DA che secondo me ci provano fanno pace sì si parla di e per me ci provano fino all'ultimo ebbè tanto non ha niente da perdere esatto Mila Lecce passiamo alle partite di sabato scusa Mila Lecce quando c'è la coppa sì potrebbe esserci del turnover eh per me nel Mila sì nel Mila sì però attenti che il Lecce visto oggi è difficile a scardinare anche perdesse due punti ormai non è che sì infatti fraganietta al Mila infatti ormai non c'è l'Optus Cic squalificato ti dico Ciucquesio che ha fatto bene al di là del se e mezzo sì Reco io ho detto Ciucquesio pure ah vabbè io dico Florenzi dico invece Roma Lazio no lo sai questa non la dico Roma Lazio Roma Lazio voglio anche il pronostico però io ovviamente non lo faccio allora Lazio sicuramente ci arriva peggio e ti dico ti dico immobile tanto è improbabile che ti voglio fare questa io non so così come sensazione dico partita bella ci vedo cioè non la vedo da 0 a 0 all'andata finita 0 a 0 no sì 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 andata 0 a 0 bruttissima vero bruttissima 0 te rimportano va brutta secondo me sarà invece una bella partita perché comunque le squadre di Tudor se la giocano De Rossi è un altro che se la gioca soprattutto nel secondo tempo ci potrebbero essere grandi spazi ti devo dire un nome improbabile in questo nuovo 3 4 2 1 Kamada poh cioè perdiamo il derby col gol di Kamada allora io ti dico che negli anni 90 in un derby tra Samp e Genua non so se te lo ricordi Katsumiura segnò se non sbaglio il suo unico gol in Serie A proprio nel derby contro la Samp Kamada potrebbe essere il giapponese di questo derby mamma mia cioè posso morire veramente è in pulitorino no questo che io non lo dico Lazio ma Lazio mi astengo da qualsiasi commento è in pulitorino pulitorino bastoni mi è piaciuto per me in pulitorino è una di quelle partite da 0 a 0 ad alta probabilità quindi dato che ne ha già segnati tre un Milinkovic che para un rigore tra l'altro un Milinkovic appena listato su Starks che parasse un rigore a Niang è anche male vero troviamo vero io concordo con Davide questo è di destro destro a fine stagione ma che gol di solito lo tira fuori dico destro ah vero cambio 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 dico ricchi all'Empoli segna sempre ah è vero all'Empoli segna sempre vero Rosinone Bologna una partita strana una partita strana che il Bologna a Rosinone non ha mai vinto nella storia cinque partite non ha mai vinto prendendo pure delle belle batoste vi dico uno scontato Froiler ma allora io sul segno non so però per me il Frosinone contro il Bologna dietro rischia una bella imbarcata però magari ne fa tre non lo so però ne prende quattro magari ti dico un Odgaard perché magari la prossima la fa Zirk Z da titolare un Odgaard dai castro mi sembra eccessivo io invece per me il Frosinone non è fare una bella partita io dico Brescianili dico che dovrebbe esserci Monza Napoli cambiamo il giro prop eh qua per me è tosta una bella partita non è improbabile però una partita da da sette e mezzo più quattro di colpani gol e assist magari cioè se il Napoli gioca come contro l'Atalanta uno come colpani tra le linee lì può veramente fare la differenza soprattutto lui in casa finora le ha sempre segnato in casa quindi ti dico gol e assist di colpani io mi gioco Armandone iniz settimana quanto è andato settimana ha giocato giocato bene sei non è poco ho fatto un paio di interventi interessanti cagliusta dalla panchina mamma mia sembra eccessivo eh eh sai che ho pensato a Angong infatti pensato a Angong sì e invece c'è Cagliari Atalanta finalmente per la gioia di noi che facciamo i video e ci troviamo cagata e aspettiamo di farlo è vero devo stare attenti ai capitoli no esatto scusa un attimo l'Atalanta gioca in Coppa Italia questa settimana sì e poi in Coppa quella dopo e in Coppa invece in Coppa quella dopo quindi l'Atalanta sì sì cioè ne fa tre in dieci giorni ma io dico che c'è il ritorno di Coppa quella dopo ancora sì e poi c'è il ritorno di Coppa Italia secondo me questa l'Atalanta la sbaglia perché per me è una partita cagata secondo me rischia di di essere la partita del Cagliari decisiva per la salvezza e dato che a sto giro non ha giocato per me Gaetano torna e fa la differenza io dico Marione Pasalic da subentrante io dico Petagna che rientra da ex da ex esatto da ex sì Verona Genoa anche questa secondo me sarà una partita dove il Verona può fare punti importanti Petagna dovrebbe tornare da quelli che so inizio aprile dunque dovrebbe essere pronto allora il Verona è difficile dirti un improbabile perché ti dico Lazovic che gli hanno pure annullato al VAR esatto non segna mai ultimamente anche io volevo dire lui aspetta ne trovo un altro come? no dico gli altri non sono improbabili cioè Noslin Suslov Polorusio e dietro pescare un nome che possa fare gol in quella difesa dai mi gioco Duda mi gioco Duda Duda ci sta io dico finalmente Malinowski non è non si è rotto non si è fatto niente di grave è uscito dopo 15 minuti forse 18 da valutare mi sembra valutabile niente di grave da quello che si da quello che ho detto niente di grave infatti anche su Petagna che ha finito la stagione adesso Ranieri oggi ci vuole sia Petagna e anche la Padua io perché ho ancora lesione al soleo inizio aprile ancora sulla valutazione però si si quelle cose che ma dov'è che ha il soleo voi che siete esperti di infortuni ma che ne so ma che ne so quello è Reco che è esperto di infortuni ma che ne so non mi fare toccare in allora il soleo io il soleo ho gelato è un'arge piattito situato al di sotto dei due muscoli gemelli ah è il polpaccio polpaccio sostanzialmente è il polpaccio mi pare l'infortunio di coso di di Mignon era che era proprio al soleo se non sbaglio ma tra l'altro si dice soleo o soleo soleo ma si si quello di Mignon era non lo ricordo soleo 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 vabbè ora l'attento soleo e infatti soleo no soleo non soleo esatto vabbè sarà sempre quello e quando non sanno che dire ti dicono il soleo esatto dopo su un slovo ormai può tornare chiunque dopo su un slovo che era l'anno scorso Sanabria vero che era infortunato tornò così di improvviso e segnò Sanabria nascosto sì sì esatto che non doveva esserci e poi invece c'era big match juventus fiorentina la partita degli ex tra l'altro chiesa e vlaovic non hanno mai segnato nel fatto assist mi sembra contro la fiorentina vlaovic sicuro chiesa non ha segnato sicuro assist non mi ricordo ma sei sicuro vlaovic no vlaovic c'è né gol né assist contro la fiorentina la squadra più affrontata in carriera contro cui non ha mai portato bonus chiesa non mi ricordo se ha fatto qualche assist gol no vabbè io ti dico meccaniche ha fatto zero gol e sette assist prima o poi un gol lo fa sì allora vado sulla juve il solero grangelato intanto dicono in chat non lo ricordo sì sì no cambio la juve non mi piace nessuno come che vuol dire di come andrà guarda di come andrà io dico uno che non schiererà nessuno Belotti intanto non schiererà nessuno ormai si sblocca lui e invece chiudiamo con Udinese Inter e comincia veramente il calendario pessimo dell'Udinese secondo me l'Udinese farà una gran partita poi magari perde però per me l'Udinese con quel tipo di squadre lì con le grandi di solito attira fuori delle belle delle belle prestazioni fa più fatica con le piccole infatti è per quello che il calendario dell'Udinese a me non dispiace neanche mi ha perso Lorenzo avrà fatto esci dallo studio detto questo secondo me nell'Udinese Samarzic sarebbe bello dopo tutto il casino con il padre che va all'Inter sì è una storia già scritta è una storia già scritta io pensavo invece a Sanchez ah anche lui da ex dove è andato? ma non lo so cioè tra l'altro come ha fatto a cadere da solo nella sua live ha schiacciato X secondo me sulla finestra sì sì di solito lui schiaccia esci dalla tra l'altro uno di quei pochi casi in cui il canale rischia il ban meno di quando c'è il suo proprietario adesso il canale non è mai stato così serio la rapito oggi non possiamo neanche non possiamo mettere neanche in evidenza i messaggi noi eh no possiamo parlare di pubbalgia visto che non c'è non c'è Lorenzo tanto se lo chiudono chi se ne frega ecco mi aspetta perché c'è un gatto come è possibile cosa è successo è finita la batteria della macchina fotografica che tra l'altro è impossibile perché è collegata tramite USB quindi è impossibile non sa quello che è successo e quindi adesso ho attaccato la webcam quella che ho di riserva però fa questo scherzo qua fa tipo non lo so perché ho sto gatto poi nei tuoi video ci sarà sempre quel gatto qualsiasi cosa farai tra l'altro Lorenzo diceva uno di quei pochi casi in cui il canale rischia meno il ban in assenza del proprietario sì esatto l'hai gatto ritagliato non lo so è tremenda sta cosa ma infatti cacciano ma solo il gatto poi c'è cioè guarda come sposto resta il gatto non lo so perché è incredibile ma non è che un segnale che la prossima la decide gatti uuuu non è che mancava il tu perché non l'hai ancora detto tu è vero se segnasse gatti segnasse gatti è vero esatto è arrivato Omar proprio adesso non si sa un uomo che fa l'informatico di mestiere esatto esatto ragazzi e con questa direi possiamo chiudere con la live perché non posso fare la live con la telecamera così tutta la sera e bene ricordiamo mettete il like se ancora non l'avete messo iscrivetevi per tutti quanti prima di chiudere Lorenzo dici cosa hai mangiato oggi voglio dire almeno così perché oggi è la Pasquetta non hai fatto niente hai mangiato qualcosa ah ho fatto la grigliata in montagna oggi ho capito ma nella grigliata che tipo di carne hai messo cioè non è che te lo devo spiegare io ha mangiato che vedi dietro c'è rosticino quindi mamma mia sei triste proprio che triste perché cioè pensavo un bel racconto no solo ah no 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 perché il tempo era incerto quindi ho preso le robe che si cuocevano più in fretta perché sennò beccavo l'acqua infatti alle tre ha cominciato a piovere che si è cuocevola il tomahawk ancora stava lì a cuocere sotto l'acqua quindi cos'hai? il tomahawk sarebbe qui avevamo 25 gradi oggi cos'è il tomahawk? il tomahawk è quella carne quella bistecca la parte del costato praticamente che ha l'osso lungo e poi la parte di bistecca quella grossa aspetta no aspetta questa facciamo perché io conoscevo alle grigliate i tomini il tomahawk no no i tomini no aspetta perché qua è difficile con la telecamera in mano aspetta adesso te lo faccio vedere è tomahawk bistecca che io credo che sia il taglio più buono secondo me con me è quello che dice Sirio è il Kobe ma fatto con carne di topo no aspetta te lo faccio vedere ma cos'è che lingua è scusami tomahawk è indiano è tipo l'ascia degli indiani è rossa bravissimo esatto è perché infatti mi sapeva di nome sì 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 è questa qui praticamente la fanno spesso cucinata a quattro ristoranti quei programmi la questa questa parte d'osso che si rosecchia e sta parte di carne qua che è abbastanza magra e viene fuori bene insomma tra i vari consigliati su tomahawk ti mette missile dove vicino a tra carne e arma c'è un missile esatto direi di chiudere io non indagherai va bene ah vedi anche io non ascia il tomahawk vedi ecco perché è uscito fuori ah ho capito esatto e si chiama tomahawk apposta perché è fatta tipo ascia al manico e ok ok voi cosa avete mangiato invece ormai facciamo sta dire io pasta al forno mi hanno fatto un po' di antipasti vari pasta al forno e poi colombe varie a vari gusti e beh io ho fatto schifo quindi meglio direi di si no eravamo a casa di amici in cui la grigliata l'ha fatta uno chef ha fatto eh la focaccia genovese c'è famoso ecco ah famoso è un mio amico di reggio che cucina molto molto bene si chiama si chiama cracco cracco il problema il problema è che lorenzo lo sa che lui è da tanto che ha superato i 40 anni io ci sto per arrivare ora ti grazie metti i panci non ho né pancia né i 40 anni erano 45 qualche qualche mese fa eh ma io vado indietro dopo arrivo a 45 poi vado indietro esatto esatto infatti missile stacca stacca se che non mi sembrava il caso infatti si ho fatto la sbracelata come le persone normale ho fatto ho fatto la sbracelata normale assolutamente la stafilata di recosta e in chiusura esatto alla pavoletti con questa direi che possiamo chiudere c'è sto gatto che mi inquieta qua ragazzi non so come toglierlo ci vediamo settimana prossima dove da carmi è finito il giro quindi se carmi si degna di esserci e non va in qualche luogo strano del mondo siamo da lui esatto si benissimo dopo Udinese Inter per frattempo vi ricordo seguite eh senza gatto ma perché Udinese Inter Lorenzo eh il tuo improbabile di Udinese Inter il mio è Lautaro che non segna più ah ok che se non segna Lautaro rischi arriva ultimo in quel pantacalcio doveva essere il primo quindi dico Lautaro dico veramente la chiudo così la chiudo così ragazzi seguite tutti quattro venerdì ore 20 e 45 che credo sia la miglior soluzione cosa questa settimana si ritorna il venerdì si si no no infatti la diretta al sabato mattina è impossibile veramente io mi sto svelando tutto quanto alla mia stanza dove faccio i video cioè in realtà io ho visto un gatto solo finora è un calorifero adesso esatto cioè potete vedere tutto potete vedere veramente è tristissima sta cosa dai parlaci di questa estate farai di uno studio basta che studio nuovo cos'è quel coso nero che hai dietro a parte il gatto è un telo si questo è il green screen questo che non so perché è nero che dovrei forse togliere da qua ma non ce l'hai il green screen come non ho il green screen aspetta c'è un rettangolo nero dietro di te il gatto ho uno sfondo ora ce l'hai tutto prima aspetta prima si vede alla stanza così si vede così si vede vi faccio uno sfondo verde sì dopo questo è il cioè guarda che roba cioè è tremenda sta roba no aspetta è così nessuno oh eccolo vedi oh eccolo questo questa è la mia stanza questa ok questa qui questa qua c'è la roba per suonare chitarre ok tutto quanto vedi comunque qualche volta potresti suonarci qualcosa come è fatta in una live sì potresti scrivere la sigla dei fantastici 4 eh la devo scrivere non c'è mai tempo la devo scrivere infatti devo scrivere sì qua qua c'ho la maglia di Gekko autografata ok perché c'è la gioconda sotto sì sì quella vera no quella lì sì sì quella vera esatto più più varie cose prese collaborazioni varie musicali a sinistra cosa c'è a sinistra a sinistra a sinistra da qua sopra sopra quello cos'è questo era un gruppo con il quale ho fatto le collaborazioni ah ok con cui ho suonato Spirit ah ok sembrava un po' satanica come cosa eh no è un gruppo di non vogliamo approfondire Metal Celtico il tuo passato e qui c'ho vari cappelli vedi pirata insomma cose varie magliette della Fiorentina insomma ecco questa è tutta la mia stanza avete visto questo è real tv ancora 148 persone che stanno a fare dei casi miei andate a dormire io guarda wire sembra in effetti è abbastanza particolare guardate lì invece guardate questo è un pezzo forte le lego cos'è un lego sì cos'è Harry Potter no questo è il castello quello famoso medievale ma c'è stato un terremoto lo devi finire si è caduta tutta no no mi è caduta tutta la mensola c'erano tutte le lego lì c'erano tutte le lego space e qua aspettate questo è il pezzo aspetta eh ok Lorenzo i lego non le lego non prendi niente a nessuno però lo fai aspettate Lorenzo i lego questa Lorenzo i lego non le lego eccola eh mi rimetto Lorenzo è Lorenzo è Lorenzo è i lego non le lego i lego i lego come per favore sì 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 ma questa la riconoscete è quella cavolo hai faccetti una pista questa è la monorotaglia space quella degli anni primi anni 90 no mi manca uuuh dai quella ero più da castelli dai castelli meglio ah proprio la monorotaglia quella storica i navi pirata anche ah ok no questa valore inestimabile questa in effetti in chat dicono è un lattice proediano le lego le lego direi che non ti ho fatto chiudere attimo perché andate a dormire ragazzi basta basta sull'elego chiudi per favore e tutto questo di noi abbonati c'è un abbonamento 90 centesimi cosa ma la nazionale youtubers nazionale youtubers niente è andata perché hanno fatto la nazionale creators ormai è andata quindi non la facciamo più basta posso andare a dormire adesso vai vai a slegarle vai esatto ciao ragazzi buonanotte adesso devo fare termine allo streaming non lascia lo studio ok prima di slegarle fai i termini grazie 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 a tutti.